Per la serie a volte ritornano, rieccoci con una nuova puntata della GOAT5, la classifica dedicata al lato più eccentrico del mondo dei videogiochi. Per questa puntata abbiamo deciso di raccogliere le periferiche più strane, particolari e fallimentari mai immesse nel mercato. Cinque posizioni per altrettanti idee che vi lasceranno stupiti, ve lo assicuriamo. Iniziamo con un prototipo di controller rilasciato da Capcom per il quarto capitolo di Resident Evil. Il dispositivo aveva la forma di una motosega ed effettivamente era anche piacevole alla vista, ottimo da mettere su uno scaffale per dimostrare quanto si fosse fan della saga. I problemi però arrivavano nel caso decidevate di utilizzarlo, mappatura dei tassi scomoda e un sistema di puntamento in base alla posizione del controller. Ogni volta in cui bisognava mirare con l'arma era necessario cambiare la posizione da verticale ad orizzontale. La chicca era la cordicella per entrare nell'inventario. Come potremmo definirla? Un'idea originale? Quanti di voi si sono intristiti quando THQ dichiarò il fallimento? Ebbene miei cari, avete qui davanti il principale responsabile dell'addio della società statunitense al mercato dei videogiochi, la tavoletta UDRAW. I costi di ricerca e sviluppo della periferica portarono il publisher ad un tracollo finanziario irrecuperabile. Neanche i cavalieri dell'apocalisse di Darksiders riuscirono ad evitare una cosa tragica fine. Tutti ricordano i gloriosi capitoli di Tony Hawk lo skater su PlayStation. Dopo che i diritti sulla serie passarono da Neversoft a Robomodo, lo studio cercò di rilanciare il brand con il capitolo Ride, accompagnato da una periferica a forma di skate. Inutile dire che questa scelta si rivelò a dir poco scellerata. La totale inadeguatezza dell'arnese e la qualità stessa del gioco affibbiarono a Tony Hawk Ride il primato di peggior capitolo della serie. Non lo avremmo mai detto. Ah, Nintendo! Il cuore dei giocatori più vetusti palpita nel sentire questo nome. Ma la grande N non è stata immune a grandi scivoloni, soprattutto con le periferiche legate al NES, talmente tante da costringerci ad accorparle tutte in un'unica posizione. Power Glove, U-Force, Virtual Boy, Super Scope, Miracle Piano, Power Pad, Speed Board, Konami Laserscope, Roll and Rocker e qualcosa ci siamo sicuramente persi. Ognuna di queste periferiche aveva difetti più o meno gravi, ma ai tempi Nintendo comandava il mercato e non ha sofferto particolarmente di questi scivoloni. Signori, se questo non è il controller definitivo non avete capito niente. Il Juicy Air venne venduto nel 2013 in bundle con il gioco Custom Made 3D. La periferica richiedeva la presenza fisica dell'utente, inserendo all'interno del controller il proprio pene. Chi ha detto che solo i visori VR porteranno la partecipazione del giocatore ad un livello superiore. Termina qui la seconda puntata della GOAT 5, la classifica meno seria sui videogiochi. Diteci cosa ne pensate e veniteci a trovare su gamesquare.it, visitate le nostre pagine social e non dimenticatevi di mettere un mi piace al video e di iscrivervi al canale. Ciao!